ciao a tutti da svito che in 74 siamo sempre qui su world frame e oggi sono in compagnia con wider boy ciao a tutti siamo felici insieme e poi con il grandissimo ehi la salve a tutti sono the player 96 e come detto da s videogame 74 ci troviamo su world frame e lui è l'ospite speciale perché non riesco a dire svideo vedi me si è bloccato la lingua dis video dis video che piccola ecco svito sviluppo ma perché siamo in due non siamo in due sono in due o vedi che ma no 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 io ne vedo tre io ne vedo tre vediamo chi siete allora quello rosso beh per chiarirci ma aspetta volevo guardarti assidone pure te siamo tutti donne perché non hai fatto l'uomo e te potevi fare l'uomo già nemici c'è stanno c'è il pene volante è miracolo ecco la miracolo bene portati tanto ragazzi vi consiglio di iscrivervi al canale di videogame e io al canale the player 96 e non che quello di the wither vabbè wither fate anche a meno dai l'uomo è discriminato no vabbè non fate a meno perché io ho già i miei iscritti quindi ma scherzo no perché hai visto che ne hai tanti wither no a te non ne hai bisogno non ne hai bisogno ne ho già saputo più niente perché sto spari a tutte le parti perché a me mi adorano tutti sono distratto a fare le cose a tre e mi distrago ahahahahahah sta facendo un giorno e prego ahahah ahahah ah io sono spiderman e io sono la donna spiderman 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 se lo sei a parte del calcio portante il calcio ruotanke il calcio ruotanke spegna corremi i aiut a pagano a pagare cambi ho già paura che mi si detto qualcos'altro di rotante per il peco basso perché come fanno un'arma di roma stiglie 23 del play 96 viene colvedendo da un abbarmi e tolzzi diesel t eh sì perchè ho bisogno degli artefatti ho un pene forza Oh, non mi rubai del pene No, no! No, no... Dintilo pure, nintiluno pure mi potrebbe servire Siamo felici buildings E' pericoloso ahead Cacciono tante! Sono l'unico che non sta capendo più niente No, che ho cioè, veramente in 3 diventa un po' un casotto ma perchè spariamo un casino il pene è portato è volante volante è portato è quello portato no ce l'hanno due tipi penni uno uno addosso e uno uno portatile quindi c'è c'hanno doppi penni ed è molto più difficile che doppi penni io mi sto portato sono salito con qualcosa si è allungato il pene si è allungato ecco perchè ho fatto tutto rosso ecco subito e pensare che io mi sono scordato che all'inizio volevo dire oh non dite penni in questo video mi sono scordato di dirlo all'inizio fa lo stesso ormai è diventato il trend di queste cooperazioni mi state lasciando indietro oddio dove sta la telecamera devi essere un po' stessa ok ecco ho le tempiste perfette devi essere un po' sveltina oddio mi hai spostato la telecamera stessa aiuta ho il bidon faccio schittare il bidone EAAAHHHHH schiacciando vedi così è vero che palpeggiando le tette si ingrossano no schiaffeggiando schiaffeggiando o io per l'ascensore ok oh bastardo aspetta che scappa questa porta ma chi è il rosso tu sei il rosso si sono il rosso violetto violetto si violetta ti chiamerò me sto a spieganti ragazzi sono tanti quindi è un po' lungo the player 96 dunque vediamo come chiamarti con un nome di fantasia tipo davide sono tanti sparate sono tanti c'è l'orgia c'è l'orgia l'orgia dei fini l'orgia dei fini beh magari c'è anche qualche passerina dai no tu sei un aschio sanerete e noi siamo passerini quindi noi che camminiamo oh io sono tutto sango avuto non vedo più niente eh eh hai le tue cose ho le mie cose eh chi è che ha spagato le camera dov'è dove è allora rossa ah è già rossa bravo sei bravo ah lo stagio ah lo cerco lo cerco ah è vero che è lo stagio quel dei guardi lo stagio che non parla che non fa niente di utile al mondo io sto violando ma niente ecco l'ho trovato ah ci stavo già sparando gli stavo per sparare all'ominide oddio c'è 621 è che mi ne voglia di spararmi è quell'uomo lì è un saggio bravo bravo ho bisogno oddio che volo oddio mi sta oddio la regala a posto che si vuol dire io 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 a posto cosa vuol dire non lo so non lo so queste cose la gente parla qui no guarda sta zitta no 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 i muti no lo sto dicendo non c'è nessuno è vuota sta cella ma va a fare un cacco oh capita oh ma non ci so ma dobbiamo andare oh dice di cercare qualcosa qua ma non c'è nessuno no no c'è un altro piano di sotto ah ok c'è piano di sotto ah allora io vado a destra state vai a destra o il contrario non lo so sotto sotto qua e svilo sta pensare i mini boni mio mini boni dai vola oh ma perché oh ho trovato ho trovato guardalo qua due ostaggi due ostaggi abbiamo oh ma qua moriamo doppio doppio ostaggio oh però qua si fa un orgione in 5 adesso ma io mi domando a quelli che guardano il video cosa pensano comunque hacker hacker io ero io il hackeraggio ma è diventato lui eh fatto oh ma quale è stata dove sta l'altro e non ce n'è ne abbiamo due oh l'ascensò io non ho usato il mio potere aspetta ecco ma poco anche ha lasciato se c'è schiacchiato è rimasto di sotto io sono qua la bella città via puoi aiuto come la mia ascensore io ho io ho io ho l'uomo se c'è l'aspetto l'aspetto deve venire qua posto volendo faccio la ex stupore sto morendo a dire sta morendo dov'è 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 che mi stai morendo sull'ascensore ma dov'è chi sei? ma perchè lo stai sopra? vieni all'ascensore sto morendo ma quale è scensore? sto cercando lui che muore cercando lui che muore dov'è? ma sta sopra all'ascensore devi venire su io non capisco vieni ma dove sei? io sono di sopra ma io ho dei pallini verdi ma non si capisce dovete venire da sopra sono rimasto da solo con l'ostaggio aiuto ci sono 200 euro e tanto vieni missione fallita missione fallita nooo e porto l'ostaggio non siete buoni a te 10 quello che avevo io era vivo nudo ma era vivo o era nudo mi sa che vabbè dobbiamo riprovare ragazzi riproviamo riproviamo non eravamo concentrati sto dai dai adesso ma se possiamo di dai cosciente dai questo video lo taglierò in 14 parti per quanto verrà lungo si io parto dai ciao a tutti da Svideog74 linea Warframe in compagnia di Witherboy e play 96 io sto sempre a registrar perchè poi taglio tutto ah io boh io sono partito sto registrando lo metto tutto insieme vediamo voi vediamo io lascio la registra finchè non chi è che? cos'è quel verso? non lo so ma Wither se devi andare in bagno giocavamo a Wither vai in bagno andiamo noi oh ma perchè te c'è la spida ah si la spida la spada figa la spida la spiga ah guarda guarda the play spideogame guarda la mia spada come si lustica come sto guardando a telecamera mi vuole spia sotto la doccia non sono io quello eh scusa mi sono confuso ma dove cazzo sei? ma dove cazzo sei? ma perchè dove sei? beh eccomi sono dietro di te comunque ho capito l'utilità delle pixelamere in giro sono dietro di te eheheheh ah mi vedi dietro ah ecco eccoci Wither Wither guarda che spazio io mi perdo con tre persone o comunque ho scoperto l'utilità delle videocamere ti vogliono spiar mentre ti fai la doccia eheheheh veramente anche mentre ti massichi il pene ma basta con sto pene o sei rompato un vetro così guardiamo sai? no no non pensi non si rompono i vetri in sto gioco sto morendo sono indistruttibili ma mori davvero o fai finta? fa finta fa finta imbroglione oh mi ha lagato l'universo eh ti ha lagato l'universo? è bella sta fase è visto che sei andato l'universo ma ha lagato l'universo bello bello oh mi avete chiuso i laser in faccia sono passato in tempo armadietto è bello armadiotto l'armagotto l'armagotto armadillo armadillo no? armadillo l'arma bravo arma ahahah oddio sto morendo sto morendo sono no 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 sei il pene portatile fermo so facette pedeva testi a terra arrivo 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 eh da ti capo io vai spato sto morendo pure io vado qualcuno mi curi se hai tutti a terra boom la trastrozza sono a terra anche ma che successe bene ti mi devo rilema che successe eh si capire ma ti hai dato che ho da via Gatti! Oh Wither ti cura! Ti cura! Vieni da me! Insani! Wither curami! Cioè proteggimi! Dilevati! Una mod! Ma c'era scritto che è morto! Come fai a parlare? C'era scritto che è morto! Oh adesso sono quasi finito! Io mi ero già intristito, facevo le condoleanze a tutti! Ma aspetta! C'era scritta delle camere in giro! Sono tutti morti! Eh ce ne sono sempre esse qui, i wirely, i guardoni! Tutti questi guardoni che ci spiano le poffette! Eh! E dove vittà? Io c'ho una quinta! Sentecela in piccoli io c'ho una quinta! Io c'ho la! Aspetta che guardo! E' una terza, dai! La terza, terza... Una cento! Una cento! Una cento! Esagerata! E' un'astronave! C'è! Travete! Che mastite! Ah ma dobbiamo passare 37 minuti! No ma dobbiamo usciti tutti! Non ho appena accorto! Enemies 37! 36! Nemesis! Corri scappa! C'è Nemesis! Merda! O se puoi dire anche corri scappa! C'è Nemesis! Aiuto! Bisogna andare sotto! Che rupini esseri! Oddio aiuto! Aiuto! Eh? Aiuto! Ce n'era uno! Due! Sì! Oh c'è Harry Potter! Uno, due! Ah! Quelli si chiamano Harry Potter! Silenzio! Sfilo mi sta proprio dall'altra parte! Sì! Io mi perdo! Ve lo dico! Io le mappe! Non so cosa siano le mappe! Veramente! I peni! No! Non c'è! I potere mio! No! Non mi è partito! Volevo le fare un pello! Sì! Dai! Paralizzo! E curo un attimo in sta stanza! Ho un armadio! Cura di quell'armadio! Cura di quell'armadio! Aspetta! Mi ingroffo l'armadio! Sto morendo! Ecco! Ah! Basta! Attento Wither che sai che dire al lupo al lupo dopo uno si allupa eh! Ho capito però ok! Dai! Eh! 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 Dai! Te la capi! Rimandato solo in tre materie dai! Ah! 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 Eh! Eh! Ho visto! Eh! 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 E' romano non potete sapere! Lo vado! Beh! No! No! Lo sappiamo e come, cioè quant' è diventato un po' internazionale! E hai! Ebbè un po' come truzzo Un po' come Tamarro eccetera Abbandona la partita E' obiettivo del gioco Obiettivo del gioco Ascensore Dove vendicarmi Ormai Ormai Io muo Ecco Ninfo Oddio il cuore Per fogliare Wither inizia a far fogliare come al suo solito Parla in lingua estica Ma Wither ogni tanto gli si ferma il cuore Sì No ma deve andare nel signor degli annetti Sto morendo A fare queste frasi elfiche Oddio il cuore E non parla Fither un po' E' vero è vero si ferma Molte No perché è rapida quando mi respiro Mi fa male Ti fa male il cuore Quando respiro Perché secondo me lui non è un tipo molto sportivo Non è sportivo No Io faccio Nassica il pene Quindi Ma Ma si va bene Ma quella la fanno tutti Ok Eh si si Eh va bene Ma quella Sollevo circa 50 tonnellate Ma ma cagà E pensa al massimo Stanno Tecnicato Oggi mancano sei nemici Abbiamo quasi finito Mamma Guarda io sentire le fregnate qua che dici Fregnacce Neanche fregnacce La fregna La fregna Fregna Siamo tre Perdersi In questo gioco Felici però Però siamo felici eh Oh guarda Eccitati Aaaaaa Buu Non so se esisteranno a serie Più Come se può dire Più felice di questa Più felice Più pazza No no Impossibile No ma Il problema è che sembra anche abbastanza Gaia Però Però va bene Ma ci sta un altro Fa lo stesso Ci sono ancora Due pentadotanti in giro Eccone uno Mi sono buttato addosso Oddio sto a morire Vabbè è un pene Grazie al cazzo Mi sono buttato addosso Dunque questa frase cosa vuol dire Mi sono buttato addosso Non lo so neanche io sinceramente Non so Italiano corrente Mi sono buttato addosso Il nuovo italiano ragazzi Impara Me ne vado con l'ascensore Dai dai mazzalo te Deato l'ultimo mazzato No Io sfrighiamo Io richiamo Ecco l'ultimo Sto richiamando Non è vero Non è vero Ma chi Ah ma io Perché guardavo Te sei rosso Io guardavo blu Raggiungi il punto di estrazione Ok Ok Mi serve una mano qua Perché devo premere il tasto X chiama ascensore Ancora sotto Sì Mi stanno spiccicando Mi buttando al culo Aspetta Ah Io sto salendo Mi sono salito Glissia No perché tutte le cose mie Dovete sapere cazzo Ma non proprio tutte Sì Tutte tutte Anche anche mi Eh avete capito No 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 Sì 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 Stai accendo Questa per te Anche perché qua Adesso ti guarderanno Miliardi Miliardi di persone In questo video Ti faccio È vero Stai scherzando È finita Salto mortale Contro la colonna Ok ragazzi Io direi di Chiudere il mio video qui Quindi da ThePay96 Guiderboy Svideogame È tutto Ciao a tutti E lo chiudo pure io qui Ciao a tutti